Ma secondo voi chi è stato il boss più spietato? Quello che possiamo dire con assoluta certezza è chi è stato il boss più fest di tutta la camorra napoletana. A nome di tutti i commercianti del Rione vi chiediamo un piccolo sconto sul contributo mensile che vi dà. Oh, sconto? No, no, ma è una sciocchezza, roba di poco. Il 20%. Il 10%. Ma tu perché vuoi fare questo lavoro? I muovacallà, io ci... Tonino non è fesso. Veramente, così cosa è brutto lato, no? Tonino è buono. Sono fesso, sono fesso! Ma non, ma che lei tiene vostra figlia? Ma chi è che lo scemo? È il figlio di un magistrato, lo capisci che brutta gente? Nonna! Ma non ti potevo mettere con un bello pregiudicato come fanno tutte le ragazze del quartiere? Perez, Perez! A chi? A chi? Non dovete avere stress voi, non stress voi. Ma non è ufficiale, tu sei strunzo. L'ho trattato con tutti i riguardi. E non ha nonna... 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 Capita, poi mi dovete aiutare. Io mi impegno. Andoni, i cascchi? Lascia l'occhio, nessuno tocca niente. Ci prova a fare cose buone, ma... Si hanno fatto un mezzo. Ma vabbè, però ci hanno rimasti i cascchi. Non è facile. Sto svanendo! Sto svanendo! Sto svanendo! Sto sfortunato. Ti lascio questo qua. Mi sono mai girato un occhio, voi? Vabbè, non proprio un occhio. Mi hai girato uno sguardo. Sto svanendo! E la fidanza non sia... E la fidanza non sia...